Sono 601 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime 24 ore in Abruzzo. Si tratta del dato più alto mai registrato da inizio emergenza. I nuovi casi sono emersi dall'analisi di 3.685 tamponi ed è risultato positivo il 16,31% dei campioni analizzati. Il totale regionale sale così a 12.120 casi. Si registrano anche 8 decessi. Il bilancio delle vittime dunque sale a 564 da inizio emergenza. Tra questi ci sono anche i pazienti della RSA Donnorione di Avezzano dove i decessi salgono a 19 per la morte la notte scorsa di un'anziana. Sono 66 gli ospiti che sono curati nel primo piano della struttura dove è stato creato un vero e proprio reparto Covid e 35 i positivi isolati nel terzo piano del Donnorione. Tornando al bollettino Covid, gli attualmente positivi in Abruzzo sono 7.610 e di conseguenza continuano ad aumentare i ricoveri ospedalieri che sono 467, cioè 33 in più rispetto a 24 ore fa. Del totale delle persone al momento malate, 429 più 28 rispetto a ieri sono ricoverate in ospedale in terapia non intensiva e 38 più 5 rispetto a ieri in terapia intensiva mentre gli altri 7.180 più 523 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. I guariti o dimessi sono invece 3.909 più 37 rispetto a ieri. Dei nuovi casi 296, cioè il 49,25%, sono riferiti a tracciamenti di focolai già noti. Il positivo più giovane a 9 mesi, il più anziano 103. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 104.